No, no, i dubbi in questo momento non ne ho, spero che dalla prossima settimana di averne di più perché vorrei dire che saremo a regime, a regime vuol dire con giocatori tutti in condizione in una certa maniera, allora lì sì, perché in questo momento ci sarà Barbuti, ci sarà Maddio ma non sono in condizione di giocare la partita, però averli in panchina e usufruire di quelli che saranno un minutaggio discreto è già qualcosa. Quindi non hai dubbi neanche sul modulo? No, no, sia sul modulo che sia sui giocatori che scendono in campo, abbiamo provato in settimana delle situazioni di come si può mettere la partita, come è successo con Ravenna e dobbiamo essere bravi non basta solo che io allenatore dico mettiamoci a tre, a quattro, due, così dobbiamo anche lavorare in elemento abbiamo lavorato su tre sistemi di gioco, poi non voglio mettere confusione al giocatore ma deve avere un po' di certezze il nostro sistema è questo, 4-3-3, 4-3-2-1, però possiamo diventare un 4-4-1 e possiamo diventare anche un 3-4-3 in questo momento affrontiamo la squadra più forte, non perché è prima in classifica, perché ha delle certezze forse il Vicenza non è squadra nuova, Triestina squadra nuova, quelle forti, questa è la squadra in questo momento più forte dire che non ho trovato difetti è magari una bugia, però ho visto una squadra veramente in questo momento la più forte più compatta fisicamente, struttura, sa cosa deve fare in un certo momento, è la squadra più forte in questo momento assolutamente però da parte nostra non possiamo pensare di giocare come il secondo tempo di Ravenna ma non di giocare a livello di qualità, di stare in campo, noi dobbiamo concedere qualcosa ai avversari dove purtroppo forse concederemo sempre come squadra che siamo, però concedi e crei allora siamo questi, allora mi sta bene, perché noi dobbiamo cercare di pensare di creare perché se aspettiamo, ci difendiamo, siamo una squadra non pronta ancora per fare un tipo di gioco